All'incontro di primavera 2019 dell'Unione Imprese Storiche Italiane oggi abbiamo affrontato un tema, un incontro dal titolo Identità e Longevità, l'importanza di comunicare una marca, ovvero abbiamo ribadito l'importanza di comunicare la marca come prodotto di un'impresa che nel tempo è cresciuta e quindi come patrimonio della stessa impresa? Oggi ci sono due termini che sembrano in contraddizione fra di loro ma che in realtà sono molto collegati, i due termini sono quelli di passato e di futuro, cioè le due prospettive che noi abbiamo perduto perché siamo purtroppo in un'epoca in cui si vive il presente e solo il presente, questo vale per gli individui e vale per le imprese, però ci sono i segnali nella società che ci dicono che la costruzione del futuro passa per la valorizzazione del passato, ovviamente non in senso nostalgico ma in senso positivo, in senso dinamico, in senso orientato appunto a usare la propria forza, la propria consapevolezza e il proprio patrimonio per costruire il futuro e questo ragionamento che vale per tutti gli individui, per imprese che hanno oltre 100 anni di storia alle spalle vale ancora di più perché a differenza di chi nasce oggi, un'impresa che ha 100 anni di storia alle spalle ha non solo una storia ma anche storie a raccontare e quindi modi per intercettare pubblici diversi, i pubblici diversi che oggi si affacciano sul mercato.